700.000 euro per il restauro e il risanamento conservativo di Ponte Buriano, un intervento che rientra nei tre accordi di programma per una viabilità migliore e più sicura in Toscana, firmato venerdì mattina dall'assessore regionale alla mobilità e viabilità Vincenzo Ceccarelli con la provincia di Arezzo, la provincia di Pisa, il comune di Volterra e il comune di Signa. L'intervento su Ponte Buriano è necessario, commenta l'assessore Ceccarelli, sia dal punto di vista della viabilità che da quello culturale, perché è abbastanza accertato che è quello che compare dietro la gioconda. Con la sottoscrizione dell'accordo, la provincia di Arezzo, che ne ha la competenza, può partire con l'appalto della gara per poi fare i lavori. In un momento anche di difficoltà economica, finanziari e aver rispettato questo impegno dimostra, conclude Ceccarelli, come la regione si è vicina ai territori.